Pittori e fotografi italiani sbarcano a New York si conoscere dal pubblico internazionale. Al Chelsea Art Museum, Andrea Mete espone le sue fotografie, immagini di vita quotidiana che l'artista romano isola nei suoi scatti, dando una dimensione astratta ad apparenti momenti di banalità. Racconta la vita, racconta quello che viviamo e che forse non vediamo più, nel senso quello che non ci stupisce più di quello che guardiamo quando usciamo di casa. L'idea di Mete nella mostra intitolata Young Eyes è riscoprire la semplicità che solo gli occhi dei bambini possono avere. Ho voluto proporre queste mie foto a una onlus con cui ci siamo collegati, l'associazione Sulla Strada, che è in Guatemala, e abbiamo proposto queste 18 foto a dei bambini che hanno disegnato quello che loro sentivano e quello che loro provavano da queste foto. Ancora di più una visione non occidentale della realtà, si stupisce ancora di più di cose che noi vediamo normali.